L'italiano stile, la nostra musica è exportabile da Radio GPJ, alternativa rock. Siamo solo noi, così cantava Vasco Rossi nella nostra sigla e così canterete e canteremo insieme in questa nostra senata di Italian Lover Music, amici miei ben sintetizzati. 20 e 52 febbraio 2022, oggi è una giornata veramente importante perché per la prima volta avremo due programmi, quello del sottoscritto in questo preciso istante e poi alle 23 e 15 minuti primi ci sarà la prima puntata del nostro carissimo Marco Olivotto che presenterà il suo nuovo progetto intitolato World Record. Tantissime sorprese a partire già da stasera e no, non posso parlare perché già so cosa sta preparando insieme a qualcun altro, a un altro nostro collaboratore, anzi un vero e proprio collaboratore esterno. 20 e 51 minuti primi, siamo qui comunque per fare musica e allora partiamo subito con la prima presentazione riguardo Joe, ecco qui un personaggio che è molto interessante, innanzitutto viene da Roma. Si chiama Giuseppe Verticchio, ha sotto di sé vari progetti come il sottonome di NIM, Halo of Miros, Twist of Fate, We Promise to Betray, Maribor, LAM. Ebbene, stasera ci ascoltiamo proprio dal progetto LAM, lui non fa nient'altro che fare tantissime cose, tantissimi generi, guarda industrial, ambient, dark ambient, elettronica, shock gates, post rock, sperimentale, tantissime le collaborazioni che ha effettuato Giuseppe e ci ha regalato questo singolo Mahon, il progetto si chiama LAM, lui è Giuseppe Verticchio. Grazie a tutti. 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 Giuseppe Verticchio, un brano lungo, molto particolare, ci piace, di atmosfera, ambient, favoloso. Complimenti, questo è il progetto LAM. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Ok. 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 Buone nouvelle. Verdegnia. Qui a GBJ Station. Vi스트le 15 minuti. I primi i venuti. Sintronizzate con noi. Ovviamente buona serata. Buon mercoledì certa. Italian Love Music. Ogni 15 giorni. Lo potete trovare qui con noi. wow, tutto d'un botto, tutto d'un fiato, mamma mia, il vostro Dust Chess DJ mi sembra una piccola macchinetta, sì, direi proprio di sì, calma, stiamo calmi, è solamente l'inizio, Biagio Antonacci, il migliore. O, B, L, O. Cominciare ad essere il migliore, usare meglio anche il dolore, tutta sta roba che t'avanza e tutta roba da buttare. A meno un giorno, per favore, a meno un giorno, per favore, saper di essere il migliore. Cominciare ad essere, cominciare ad essere, cominciare ad essere il migliore. Il migliore Il migliore Cominciare ad essere il migliore, senza passare dalle scale, stare sul tetto a passeggiare, con vertigine sognare, sognare. Sentire gloria sulla pelle, con rigorosa educazione, un po' di ego non fa male. Cominciare ad essere il migliore, perché se vivi sei già storia, perché se parli sei nell'aria, perché se ami sei domani. A meno un giorno, per favore, a meno un giorno, per favore, saper di essere il migliore. Cominciare ad essere, cominciare ad essere, cominciare ad essere, cominciare ad essere il migliore. Cominciare ad essere, cominciare ad essere, cominciare ad essere il migliore. Cominciare ad essere, cominciare ad essere, cominciare ad essere. Cominciare ad essere, 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 cominciare ad essere I milioni I milioni I milioni I milioni Cominciare a me sei Cominciare a me sei Cominciare ad essere migliore Beh, direi proprio di sì Il migliore, lui, grande Biagio Biagio Antonacci, 21-19 minuti primi Siete ovviamente collegati con noi In una serata che, ragazzi, ci sono 6 gradi fuori La settimana scorsa eravamo abituati a darvi dei gradi Da 1-1-2 massimo Questa settimana invece già abbiamo svoltato decisamente Come ben sapete in questo preciso istante Noi siamo in diretta Ma sono in diretta anche i nostri colleghi di Sanremo Ovviamente facciamo a loro Scherzi a parte Ovviamente prima scherzavamo Ma facciamo a loro e a tutti i cantanti Che partecipano in bocca al lupo Perché so che non è assolutamente facile essere live Sul teatro dell'Ariston Noi invece siamo qui live su GBJ Station Il cielo in una stanza No, non la canta Gino Paoli Ma qualcosa, qualcuno Anzi diciamo qualcuna Che forse la canta anche meglio Lei è Mina Quando sei qui con me Questa stanza no da due pareti Ma alberi Alberi infiniti Quando tu sei vicino a me Questo tuo finto viola Non è triste più Io vedo il cielo sopra noi Che restiamo qui Abbandonati come se Non ci fosse più Niente più Niente più Niente al mondo Suona Un'armonica Mi sembra Un organo Che vibra Per te Per me Su Niente più Niente più Per me Niente più Niente più Niente più Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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